Lavoro, discriminazioni, salute individuale e collettiva. Varese lancia la sfida dei diritti dedicando a questa parola d'ordine un festival ad hoc. Proviamo a riflettere in modo molto laico e aperto su tre grandi temi, che sono quello del welfare, della pace e delle famiglie, attraverso la presenza di autori di testi su questi argomenti intervistati o dialoganti con altri esperti. Tra i temi portanti nel programma del 12, 13 e 14 aprile nella biblioteca di Via Sacco, la fuga dai lavori opperimenti, alienanti e ma retribuiti. Parleremo di precarietà del lavoro, anche con la presentazione del libro di Francesca Coi nelle grandi dimissioni, che è un fenomeno nuovo e che interroga anche il sindacato, perché per la prima volta siamo di fronte ad una fuga dai luoghi di lavoro di coloro che hanno ritmi di vita sempre più insostenibili, di lavoro sempre più povero, sempre più precario. Prevista la presentazione di tre libri con altrettanti dibattiti. Ci saranno autori e autrici che presenteranno i propri testi e che dialogheranno con il pubblico.